1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tag 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tag 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La variante 3, 6, 9, ripetizioni è sulla seconda sezione ovvero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mentre invece per la decima e la dodicesima la seconda sezione sarà portato mezzo giro quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8